Musica Cerco, questo è un giorno straordinario per Gavardo, per questa zona, perché mettiamo la prima pietra per ammigliare l'ospedale di Gavardo. Viaggio nella sanità bresciana, in questo momento in Val Camonica, stamattina sul Garda. E oggi siamo qui per inaugurare nuove importanti opere che sono state realizzate. E per dare il via ad ulteriori grandi opere, il centro psicosociale per la neuropsichiatria infantile, la realizzazione del servizio di radioterapia, la realizzazione di una palazzina di vite a sede universitaria. Ci guarda?